Paolo Di Bala Juve Culona Purtroppo Ragazzi non posso dire niente Bella punizione Guardate qua Di Bala E sul suo palo Andrenacci Quarto portiere Quinto portiere del Brescia Non fa nulla, è imparabile ragazzi Ma è stata una direzione Boh Andrenacci Anche se il quarto, il terzo, il quarto portiere Di Bala bene Juventus Culona Iscrivetevi al canale, commentate Guardate i video, guardate i video